La vince sa bene di avere un'unica possibilità, quindi la precisione è fondamentale, si prepara ad attaccare. Il riparo che offre la foresta è essenziale tanto per i predatori quanto per le prete. Non è talpora? La fortuna di uno corrisponde alla disgrazia dell'altro. L'hai vista la vince? Moneta, l'hai vista la vince? Ti cambiano anche i bisotti? La vince per la paura. Eh moneta? Moneta. Eh però basta, guardate la televisione, dai. Sembra imbalzamata. La stessa pelliccia lo protegge dalle temperature più basse. Qui in inverno il termometro arriva facilmente a meno 10 gradi centigradi. Ti chiedevi da scuola qua, le porti a scuola? Io poi quando hai imparato tutte queste cose le porti a scuola, le porti a scuola poi? C'ho il gatto istruito, la bestia, guarda i documentari. Guardate, è spettacolare. Moneta, moneta, faccio. Moneta, moneta, vado a scuola. C'ho da guardare la televisione ora, hai lanciato la fabbrica. Moneta, vado a scuola. Il bisonte europeo è più magro di quello americano. E il collo decisamente più allungato gli permette di aggirarsi facilmente nel più sotto posto. Moneta, ho che ci si ragiona con te. Il bisonte europeo è più magro della televisione. Moneta, ho che ci si ragione con te. Con te. Per la televisione.